salve a tutti io sono Leonardo Durante insegno sistema automatici e controlli all'ITS erico fermi di Roma e vorrei condividere con voi e cari studenti qualche piccola informazione qualche curiosità scientifica spero possiate ascoltare in tanti questi podcast benvenuti e intanto vorrei subito partire con voi con una piccola curiosità che ho letto in questi giorni in particolare è stato rilevato dalle lenti gravitazionali un oggetto pesante ma compatto nella nostra galassia che potrebbe essere il primo buco nero isolato di massa stellare oppure potrebbe essere una stella di neutroni pesanti beh questo solitario oggetto celeste che è più massiccio del sole ma molto più piccolo sta vagando per la galassia a poche migliaia di anni luci dalla terra potrebbe essere il primo buco nero isolato di massa stellare ed essere rilevato nella via lattea oppure potrebbe essere una delle stelle di neutroni più pesanti conosciute questo vagabond interstellare si è rivelato per la prima volta nel 2011 ma all'epoca la sua vera natura sfuggiva ai ricercatori in realtà sfugge ancora adesso perché due team di astronomi hanno analizzato le immagini del telescopio spaziale Hubble per smascherare questa identità di questo viaggiatore sono giunti a conclusioni in qualche modo diverse il misterioso astro sarebbe un buco nero circa sette volte più massiccio del sole come riporta un team di uno studio sull'astrophysical journal oppure un po più leggero da due a quattro volte il peso della nostra stella più vicina e quindi un buco nero insolitamente leggero oppure una stella di neutroni curiosamente pesante secondo quanto riportato sull'astrophysical journal letters le stelle di neutroni e i buchi neri di massa stellare si formano quando stelle massicce collassano sotto la loro stessa gravità alla fine della loro vita gli astronomi ritengono che circa un miliardo di stelle di neutroni e circa 100 milioni di buchi neri di massa stellare si nascondano nella nostra galassia ma questi oggetti non sono facili da individuare le stelle di neutroni sono così piccole delle dimensioni di una città e non producono molta luce e i buchi neri non emettono luce per rilevare questi oggetti gli scienziati osservano come influenzano l'ambiente circostante e l'unico modo per trovarli è proprio se influenzano qualcos'altro afferma Kali Ashasu che è un astronomo dello Space Telescope Science Institute di Baltimore ma mi chiedo che cosa sarà mai quindi è molto affascinante tutto ciò grazie per avermi seguito sono sempre Leonardo Durante Grazie per aver guardato il video